Oltre 10 tonnellate di alimenti sottoposti a sequestro e distrutti e il bilancio di una serie di controlli e ispezioni condotte in tutto l'abruzzo dei carabinieri del NAS di Pescara nei settori ittico e dolciario a pochi giorni dal Natale. Il valore complessivo del pesce sequestrato nel Chietino e nel Terramano ammonta circa 100.000 euro. Nel Pescarese invece è sequestrato una gran quantità di pane, pizze e dolci freschi dal valore di circa 5.000 euro. Nel Terramano infine è stata disposta la chiusura di un'azienda per carenze igieniche. Per quanto riguarda il settore ittico in particolare in un centro di distribuzione di prodotti ittici del Chietino sono stati sequestrati 1.600 kg di gamberi rosa poiché detenuti in assenza di documentazioni idonee ad attestarne la tracciabilità e perché privi delle previste indicazioni in etichetta. In uno stabilimento di lavorazione di pesce azzurro nell'Alto Terramano inoltre sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 10.000 kg di prodotti ittici privi di ogni indicazione circa la qualificazione della specie, l'identificazione della partita e l'origine. In uno stabilimento di trasformazione di prodotti ittici e produzione di conserve alimentari, sempre in provincia di Terramo, con l'ausilio del servizio veterinario della locale ASL, sono stati avviati a distruzione circa 120 kg di polpo, in quanto sottoposti ad una procedura di congelamento non idonea. Le operazioni di verifica condotte dai militari dei NAS nei confronti di aziende produttrici di pane e dolci tipici natalizi inoltre hanno consentito di individuare nel pescarese una ditta che aveva imbustato pane, pizza e dolci freschi con etichette riportanti date di produzione posticipate idonee a trarre in inganno il consumatore circa il loro reale stato di freschezza. In un'azienda del Terramano, infine a fronte delle carenze igienico-sanitarie riscontrate nei locali di produzione, è stata disposta la chiusura dell'attività.